La zona gialla non ferma la mobida, scattano i controlli, ordinanze anti-covid disattese. Alcuni gestori di locali non hanno osservato le regole in vigore per le attività di ristorazione svago. Se in alcuni casi le forze dell'ordine hanno rilevato in città Salerno il mancato rispetto dell'orario di chiusura, ieri i carabinieri del comando provinciale di Salerno sono intervenuti nella zona orientale della città di Salerno dove era in corso un happy hour. Assembramenti, folla e musica ad alto volume hanno richiamato l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile presso il Lido Maremo di Salerno di Via Alliende che nell'ambito di un'attività di controllo su assembramenti covid hanno sanzionato i gestori e applicato la chiusura dello stabilimento balneare. Tanta gente, musica e balli, assenza di distanze e mascherine. La segnalazione nel pomeriggio di ieri al centralino del 112. I carabinieri della sezione radiomobile si sono recati immediatamente sul posto riscontrando che erano presenti più di un centinaio di persone. Subito identificati il gestore ed un socio della ditta che ha in gestione la struttura è scattata l'immediata diffida ad interrompere le attività danzanti e qualsivoglia somministrazione di servizi. Fatta defluire la folla, i due soci sono stati sanzionati per le violazioni al decreto nonché alle ordinanze regionali. È stata inoltre applicata la chiusura provvisoria di 5 giorni con segnalazione alla Prefettura di Salerno per i provvedimenti di competenza circa la chiusura dell'attività. I controlli dei carabinieri continuano su tutto il territorio salernitano per verificare l'osservanza delle regole e del decreto che per la zona gialla consente per le attività di ristorazione il consumo al tavolo che deve essere esclusivamente all'aperto anche a cena nel rispetto degli orari del coprifuoco e dei protocolli di sicurezza. Restano invece vietate tutte le attività in sale da ballo, discoteche e feste private.